Eccolo qua ragazzi, tolgo l'occhiale che così... Stefano Nesta... Ma che Nesta? Scusa, scusa, Nesta... Magari Nesta... Stefano Guerra dà un giudizio di Nesta? Allora, come giocatore spettacolare, come allenatore secondo me ha fatto il suo, ha portato una salvezza importante per la Reggiana Non so, dispiace a questo punto che se ne vada, non si sa Io che dico di sì, poi magari chi arriva al posto suo farà anche meglio, spero, me lo auguro Chi è l'allenatore ideale per la Reggiana? Pippo Marcheoro L'allenatore ideale attualmente è colui che riesce a lanciare i giovani perché secondo me il futuro della Reggiana devono essere i giovani Chi è la sua organizingità? Chi è la sua comp Sketchitore? Chi è la sua Sk Lofine? Grazie a tutti.